Ritorna dopo 20 anni lo slalom città di Sartano, kermess automobilistica giunta complessivamente alla nona edizione e in programma per domenica 4 novembre. La gara che si corre sul circuito di gara della strada provinciale 107 di Torano Castello e organizzata dalla scuderia Cosenza Corse ha caratterizzato la storia della cittadina del Cosentino, dunque un gradito ritorno. Il percorso è un percorso bello, in salita, uno slalomo singolo, ma questo percorso è un percorso, come dicevo prima, nell'altra conferenza dico che è un percorso comodo, molto comodo, perché si esce dall'autostrada, a 500 metri c'è la partenza della gara, a 200 metri ci sono alberghi, ristoranti, la segreteria della manifestazione, è una comodità come questa, io penso che non c'è nessuna gara, perché io vedo che le altre gare bisogna spostarsi almeno 15-20 km dalla sede autostradale, quindi devo dire che per questo i piloti non vogliono mancare a questo evento. E poi perché la gente è molto ospitale qui a questo paese, le strutture ricettive sono perfette, devo dire perfette perché si mangia bene, si dorme bene, non si paga molto e questo è quello che vanno in cerca i piloti e noi organizzatori.